Già, e anche io mi sono ritrovato a fare questa cosa. Bella raga, sono Gabbo, bentornati in questo video. Allora, mi hanno detto nello scorso video un ragazzo che devo alzare la voce. Oggi ci troviamo in un video che praticamente hanno fatto tipo un bordello di gente che viene chiamata quanta acqua riesco a bere. Qui c'è una bottiglia d'acqua da un litro. Una bottiglia d'acqua da un litro. Un bottiglia d'acqua da 50, da un mezzo litro. E questo qui da un mezzo litro. In tutto mi dovrò bere 3 litri d'acqua. E non so se ce la posso fare. Mi dovete dire qualche sfida, qualche cosa da fare nel canale. Perché comunque voglio anche sapere voi cosa ne pensate. E cosa potrei fare io. Quindi, direi di non perdereci in chiacchiere. E iniziamo la sfida. E iniziamo la sfida. Prima bottiglia. Andata. Una. Poi, mi ricordo. Anche questa. E questa. Se riesco a bere. Anche questa. Dove cercare di bere. Il più lentamente possibile. Perché così riesco ad assimilare bene quello che bevo. Assimilare bene quello che bevo. E non lasciare praticamente. Cioè, e non che la pancia si riempie troppo. E così poi mi fa male. Si riempie. E cazzo è male. Andiamo con la seconda bottiglia. passare bene 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 per Platform. La cosa positiva è una sola, l'acqua è fresca, molto fresca, se vomito sarà, boh, una sconfitta per me. Si può dire che la mia pancia è piena, però continuiamo. Ecco, penso che lo sapete tutti, che dobbiamo bere almeno due litri di acqua al giorno. Credo di non riuscire a bere altra acqua. Raga, sapete cosa vi dico? Io questa stida qua, la odio, perché devi mettere la tua pancia a un forte rischio vomito. Ecco, il tuo fisico a forte rischio vomito. Fatto, fatto. C'è la pancia che mi fa tanto male, voi mi prenderete per un deficiente. Stiga, metà completata, fatta l'apia. Per che questo video vi sia piaciuto, perché deve esservi piaciuto. Lasciate sempre un bel like, un commento, iscrivetevi. E ovviamente per non perdervi nessun video, quando vi iscrivete, attivate la campanella che sta in alto, praticamente. Per non perdervi nessun video. Condividete sempre questo video su ogni social. Sotto in descrizione vi lascio il canale che ho con Matteo, andatelo a seguire tutti. E i miei due social, Instagram e Facebook. C'è nient'altro da dire, ci vediamo nel prossimo video. Bella regata! C'è nient'altro da dire, ci vediamo nel prossimo video.